E' una gara senza domani, vincere o morire. Questo è il destino delle Real Rieti, formazione che oggi si gioca tutta la stagione contro la Lazio, terza in classifica. Il buon pomeriggio vi arriva direttamente dalla Palamalfatti, amici di Real Rieti Channel, da Marco Ferroni una partita, la penultima della regular season che mette a confronto Real Rieti e Lazio. Come detto, per la formazione Amaranto Celeste davvero 60 minuti di residui e speranze, 11 punti di ritardo dalla zona play-out, vincere e poi sperare nell'ultima giornata o soprattutto, purtroppo, nelle disgrazie altrui. Quindi nel risultato negativo della Mirafin che contemporaneamente affronta la capolista Roma Torrino Futsal. Questo e quant'altro lo racconteremo nel corso di questa telecronaca, una partita davvero dal coefficiente molto alto per la squadra allenata da Marco Abbati, che porta al referto Mattias Copegno, Mauro Ortenzi, Simone Vaccaro, Lorenzo Silvetti, Matteo D'Angeli, Niccolò Dionisi, Edoardo Scappa, Stefano Marinelli. Risponde la Lazio con Edoardo Di Bartolomeo, Massimiliano Carissimo, Luca Pizzoli, Daniele Losco, Federico Azzori, Alessio Di Eugenio, Edoardo Ruggeri, Valentino Cucce, Michel Polce, Edoardo Chierchia, Roberto Fabiani e Matteo Camedda. Questi gli uomini a disposizione del tecnico Marco Violcati. Arbito dell'incontro è il signor Angelo Ricci della sezione di Viterbo. Ci sono stati alcuni piccoli problemi di natura organizzativa prima della gara, ora è davvero tutto pronto per questa gara. L'ultima in casa per il Real Rieti, almeno per questa regular season. La speranza è di poter agganciare ancora la zona play-out, è davvero ridotte all'umicino fino a questo momento. Ora staremo a vedere cosa accadrà in questi 60 minuti. Parte in questo momento la gara, subito Real Rieti in possesso palla. Silvetti per Vaccaro, recupera subito il pallone la Lazio oggi in una inedita maglia arancio fluorescente. Real Rieti invece maglia tradizionale a bande verticali a Maranto Celeste che in questo primo tempo attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. Primo corner della gara per il Real, palla dietro per scappa, ci mette subito nel manone Matteo Gamedda. Subito aggressivo il Real Rieti, serve solo vincere. Atteggiamento giusto questo della formazione di casa. Ancora uno schema, palla fuori, Silvetti. Gli si fa incontro, recupera il pallone Cuce, poi Mattias Copigno, poi Silvetti perde il pallone, attenzione. Ancora Cuce, Silvetti in qualche modo recupera l'errore di Pocanzi. Pressing su di lui, poi in qualche modo riesce a servire Edoardo Scappa. Reale che esce dalla pressione, palla, scappa uno contro uno, prova a metterci il piede. E' più bravo, è più lesto di lui, l'estremo difensore bianco celeste, Matteo Gamedda. Riparte il Real, va caro per Edoardo Scappa. Subito un buon ritmo per la gara. Riparte da Lazio, di Eugenio. L'apertura sulla destra per Fabiani, ancora di Eugenio. Cuce, poi la volta di Azzori. Fabiani, attenzione, la conclusione. Si distende sulla sua sinistra Mattias Copigno. Manda il pallone in fallo laterale, la risposta immediata della Lazio. Ora in possesso palla con Fabiani. Sicuramente uno degli osservati speciali questa sera. Azzori, altura sulla sinistra per Cuce, gli recupera il pallone Edoardo Scappa. Poi, carissimo, lo riporta nella propria metà campo, dove la Lazio cerca di manovrare per trovare i varchi giusti. Ancora Fabiani perde il pallone, Edoardo Scappa è di prima intenzione, commette fallo. Primo fallo della gara per il Real Rieti. La battuta di Azzori. Ancora Azzori in possesso palla. Poi Fabiani prova ad accentrarsi, scarica proprio su Azzori. Uno contro uno di Azzori, chiude il varco Marinelli. Poi, qualche modo, carissimo, torna sul pallone. E poi la rete, la rete del vantaggio realizzata da Federico Azzori. Quando siamo giunti al terzo minuto della gara. Subito in salita la gara per il Real. Ha trovato il diagonale giusto Federico Azzori. Nulla da fare per Mattias Copigno, che deve arrendersi alla conclusione dal vertice sinistro dell'area di rigore. Riparte il Real, Baccaro. Ancora nel ruolo di play. Ora Edoardo Scappa, ricomincia proprio da Baccaro. Silvetti uno contro uno, scarica ancora su Baccaro. Baccaro, falloso l'intervento del giocatore della Lazio. L'arbitro lascia correre. Edoardo Scappa prova in qualche modo a deludere l'intervento di Azzori. Poi viene fallo cumulativo uno a uno, quindi il computo dei falli. L'arbitro pur lasciando correre, dando la regola del vantaggio. Aveva visto l'intervento scomposto di Azzori su Silvetti. E ora riparte Real proprio con Silvetti. Scarico proprio davanti a lui, sui piedi di Edoardo Scappa. Pallone però che si termina la sua corsa oltre la panchina della Lazio. Quindi rimessa laterale già battuta. Cucce. Poi Azzori. Fabiani in gioco di gambe, prova la puntata. Non trova lo specchio della porta. Nulla di fatto. Si rimane con la Lazio in vantaggio per uno a zero. Decisivo fino a questo momento il gol di Azzori al terzo minuto. Ancora la Lazio che prova a manovrare con Fabiani. Poi Azzori. Apertura sulla destra per Cucce. Non si intende con Fabiani, numero otto della Lazio. Rimessa laterale per il Rarrieti. Baccaro su Scopigno. Poi Silvetti. Prova lo scarico su Edoardo Scappa. Pallone perso. Prova da giocare a memoria Simone Baccaro. Che non ha trovato però nessun compagno libero. Allora riparte la Lazio con Fabiani. Avanza, palla al piede, Cucce. Fabiani. Ovviamente con un gol di vantaggio la formazione capitolina riesce a gestire senza troppi problemi anche il possesso palla. Il tecnico Marco Biolcati chiede pazienza dalla panchina proprio a prova del fatto che in questo momento si può giocare con fin troppa serenità. Sta a Rarrieti cercare di raddrizzare la situazione. Baccaro si inserisce bene Marinelli. Poi Edoardo Scappa controlla il pallone. Lo scarica l'indietro per Silvetti. Balla sul destro. Errore di ricezione per Edoardo Scappa. Allora riparte nuovamente la Lazio con Azzori. Autore del gol che fino a questo momento decide l'incontro. Poi ottimo l'intervento di Silvetti su Carissimo. Ci prova. Valerio Cuce quando il pallone però stava per terminare fuori. Davvero lascia correre. Si riparte allora ancora Silvetti per Marinelli. Lungo linea per Matteo D'Angeli. Tutti i varchi sono chiusi. Matteo D'Angeli non si accitarra. Si porta il pallone sul destro. Prova a trovare il fondo. Il pallone però esce. Nulla di fatto. Ancora Lazio. Azzori. Per il capitano Edoardo Chierchia. Si inculina tra i due Edoardo Chierchia. Stavolta è bravo Mattias Covegno a dirgli di no. Si era ritrovato a tu per tu con il portiere Amaranto Celeste. Rasoterra. È stato intercettato. Cambia la rimessa. Marinelli. Proprio per Scopigno. Poi Silvetti. Cora Real. Baccaro. Silvetti. Pallo laterale in favore della formazione di casa. Già battuta. D'Angeli per Marinelli. Avanza Silvetti. Supera la metà campo. Poi ancora una puntata di Marinelli. Pallone però che non arriva a destinazione. Quindi si può riprendere con la rimessa di Matteo Camedda. Estremo difensore della Lazio. Ancora Lazio in possesso palla. Polce. Poi Valerio Cucce. Azzori. Non controlla il pallone. Il capitano. Edoardo Chierchia. Riparte Real con Silvetti. D'Angeli prova in lungo linea. Torna su sui passi. Scarica su Baccaro. Pressing a tutto campo della Lazio. Che non fa ragionare i giocatori del Real. Riconquistano il pallone proprio con Chierchia. Si porta avanti il pallone. Prova la conclusione. La palla però era già uscita oltre la linea che delimita il campo. Intanto se ne sono andati i primi dieci minuti di gioco. Palla mal fatti. Ricordiamo il punteggio per chi si fosse messo in ascolto sol'ora. Real Rieti zero. Lazio uno. Prova la conclusione di prima intenzione. Matteo D'Angeli. Non trova lo specchio della porta. E quindi nulla di fatto per il Real. Real che come detto questa sera si gioca davvero le residue e speranze di permanenza nella categoria Elite. Undici punti la separano dalla zona play out che in questo momento è rappresentata dalla Mirafin. Che questa sera in contemporanea sfida la capolista Roma-Torrino-Fuzzal. Poi l'ultima giornata prossima settimana. Vedrà le due squadre Real Rieti e Mirafin impegnate contro le ultime due della classe. Intanto attenzione recupera il pallone il Real col Marinelli. La puntata che fa la barba al palo. Era buona questa intenzione. Sfiorato il pareggio per il Real Rieti. Riparte la Lazio scampato il pericolo. Chierchi avanza pallo al piede. La scarica su Polce. Poi conclusione di Valerio Cucce. Che buon per il Real termina fuori. Ancora Lazio. Stavolta la conclusione è direttamente di Chierchia. decisamente più in palla la formazione bianco-celeste che sta legittimando il momentaneo vantaggio. Real che ci prova con generosità come pochi istanti fa. Marinelli. L'apertura su Baccaro. Gli tocca il pallone. Gli lo porta via per un primo momento. Lo recupera nuovamente Edoardo Scappa. Ancora lui. Baccaro. Lungo linea per Matteo D'Angeli. Ancora una volta intercettato. Poi l'ultimo tocco è di Michael Polce. Quindi rimessa in favore del Real. Subito D'Angeli per Scappa. Marinelli. Ancora Edoardo Scappa. Prova ad avanzare palla al piede. Baccaro. L'ultimo tocco di Polce. E quindi rimessa già battuta dal Real. Baccaro per Marinelli. In avanti per Edoardo Scappa. L'unico lo supera. quindi rimessa laterale in favore della Lazio. Lazio che potenzialmente potrebbe ancora insidiare il primo posto del Roma-Torrino Futsal. Sono sei punti che la dividono dalla capolista ma ci vorrebbero due vittorie consecutive due sconfitte del Roma-Torrino che sinceramente sembra essere un po' utopistico in questo caso tanto attenzione ancora Lazio pericolosa questa volta con Polce palla indietro per Chierchia deviazione provvidenziale di Mattias Copigno ancora un corner per Lazio Chierchia deviazione di Nicolo Dionisi subito Chierchia deviazione questa volta di Marinelli gesto istintivo quello del capitano del Real tocca quel poco che basta per assegnare la rimessa alla Lazio Cucè poi Chierchia l'apertura su Polce che è un po' strattonato buona la marcatura di Baccaro palla in avanti rilancio di Camedda la rimette subito Mattias Copigno ancora Real in possesso palla Edoardo scappa prova a scaricare davanti a sé per Silvetti ancora Lazio con Edoardo Ruggeri intercetta la sfera scappa però che termina direttamente tra le braccia di Camedda poi ancora Lazio con Chierchia interviene Silvetti gli doia il pallone avanza palla al piede prova a superare anche di Eugenio non gli riesce allora Lazio che rilancia Real che si difende ottimamente in questo caso Dionisi scappa Marinelli poi l'intervento del capitano su Nicolo Dionisi Sbaglia tutto Marinelli recupera il pallone Silvetti palla all'indirizzo di Edoardo scappa falloso l'intervento di scappa subito segnalato dal direttore di gara secondo fallo per il Real stavolta ci prova nuovamente nuovamente la Lazio con Chierchia di Eugenio primo pallone toccato da Lusco fallo laterale già battuto dal Real Rieti Silvetti uno contro uno con Chierchia che gli tocca il pallone rimessa Real ancora Real Silvetti non gli lascia un centimetro di campo Edoardo Chierchia poi scambio veloce tra Ortenzi e Silvetti che non si concretizza però riparte nuovamente la Lazio questa volta con Di Eugenio intercetta la sfera Dionisi riparte Marinelli temporeggia subisce fallo calcio di punizione per il Real Rieti da posizione favorevole sul punto di battuta Edoardo Scappa dovrebbe essere una conclusione di potenza quella del numero dieci Amaranto Celeste vicino a sé anche Lorenzo Silvetti fischia l'arbitro parte scappa conclusione si infrange sulla barriera riparte la Lazio attenzione con Ruggeri fa buona guardia Silvetti poi spinge in qualche modo Ruggeri l'arbitro lascia correre l'ultimo tocco è di Ruggeri rimessa Real voleva il calcio di punizione e la formazione di casa ancora ancora Silvetti perde il pallone attenzione qui si fa incontro Daniele Losco buon per il Real che Daniele Losco perde l'attimo giusto per calciare a rete Silvetti in avanti per Baccaro di prima intenzione a cercare Marinelli la retroguardia della Lazio però intercetta il tiro e quindi nulla di fatto ma riparte nuovamente Reale Silvetti sulla sinistra per Baccaro la puntata di Baccaro ci mette un piede il portiere Matteo Camedda quando siamo giunti al ventesimo del primo tempo ancora 1-0 per la Lazio Lazio che ora è un po' in affanno in reale prova in qualche modo a sfruttare la situazione pallone ancora buono prende un un giro particolare lo rimette immediatamente Mattias Copigno errore di Hortensi tanto c'è il time out chiesto dalla Lazio un minuto di sospensione per riorganizzare le idee tecnico Marco Biolcati ha ravvisato probabilmente un po' di appannamento da un punto di vista di costruzione del gioco in effetti negli ultimi due minuti la Lazio è scesa un po' di tono concesso metri alla manovra di gioco dei padroni di casa che non hanno però saputo sfruttare questa opportunità quindi il risultato che resta bloccato 1-0 in favore della Lazio decisivo il gol al terzo minuto di Azzori purtroppo sta diventando un po' un abitue questo gol in avvio che indirizza le partite della formazione Juniores partenza ad Endicap per la squadra di casa si può riprendere subito l'apertura sotto la nostra postazione per Di Eugenio conclusione di Di Eugenio aveva trovato il barco giusto il numero 6 della Lazio ora Real prova la risposta con D'Angeli ancora un errore di passaggio già il terzo consecutivo che ravvisiamo serve cambiare ritmo serve sicuramente qualcosa di più per andare a riprendere questa partita di Eugenio gioco di gambe prova ad accentrarsi scarica su Azzori poi Daniele Losco si fa passare il pallone sotto la suola guarda allora Real D'Angeli Edoardo scappa sposta il pallone prova a portarselo al centro per una conclusione intuisce tutto però Azzori che poi allontana il pallone di parte Real siamo ormai entrati nella l'ultima parte del primo tempo pallone all'indietro non era consentito e allora calcio di punizione per il per la Lazio tutti i giocatori della Real sulla linea di porta praticamente di Eugenio la battuta per Cuce respinge la barriera reatina nulla di fatto si riprende con la rimessa Azzori Cuce porta pallone scarica su Di Eugenio attenzione che era tutto solo Azzori lì davanti ci pensa D'Angeli ad evitare il peggio batte Azzori per Di Eugenio ancora una conclusione da fuori già la terza volta che prova una conclusione del genere di Eugenio ancora un cambio per la Lazio torna in campo Massimiliano Carissimo pallone per lui la girata palla che esce di un nulla ancora Lazio acquista un buon pallone sul rinvio di Scopigno poi però Azzori non riesce a tenerlo in campo Marinelli poi D'Angeli prova a liberarsi di di Eugenio che gli mette il pallone in fallo laterale Marinelli ancora il capitano palla e mezzo per Baccaro la reazione del Real il pareggio al venticinquesimo pareggia il Real Rieti con Simone Baccaro intuizione di Marinelli sottoporta per Baccaro e arriva il gol del pareggio importante questo gol per il morale una partita che nonostante un avvio in salita era rimasta in bilico tutto da rifare per la Lazio buon per il Real che trova il gol dell'1-1 ora vedremo quanto può galvanizzare questo gol Baccaro palla in avanti per Dionisi gli ruba il pallone carissimo lo protegge con il corpo lo scarica all'indietro per Azzori poi di Eugenio ottimo Silvetti che ringhia sulle caviglie di Eugenio l'ultimo tocco è di D'Angeli allora riparte la Lazio carissimo due su di lui ottimo questo intervento di Silvetti con Dionisi ma non è che termina fuori ad onore del vero va detto che il Real dopo il gol del vantaggio non si è disunito non è calato di testa questo gol premia proprio la costanza che ha avuto la formazione di Marco Apati nel restare in partita c'era il rischio di poter prendere l'imbarcata invece non fa topo una guardia ora riparte ancora con Eugenio scarica su Dionisi palla sul destro perde l'attimo del tiro ancora Dionisi Real che resta in possesso palla attenzione Baccaro per Dionisi ancora lo scambio tra i due Baccaro palla in mezzo arriva il fallo non si è concretizzato il vantaggio ora Real rieti arrembante è un buon momento questo per la squadra di casa calcio di punizione terzo fallo di squadra e time out per il Real rieti che ora comincia a fiudare anche un po' di stanchezza tra i giocatori della Lazio si può tentare di chiudere questo primo tempo in vantaggio c'è una buona opportunità questo calcio di punizione per il fallo subito da Ticolo Dionisi intanto se ne sono andati già 27 minuti e 30 secondi del primo tempo ricordiamo il punteggio di 1 a 1 al terzo minuto il gol di Azzori per la Lazio pochi minuti fa al venticinquesimo per l'esattezza il tapin vincente di Simone Baccaro che rimette in partita il Real rieti ricordiamo un Real bisognoso di punti soprattutto bisognoso di una vittoria paradossalmente anche un pareggio qualora la Mirafin dovesse perdere sul campo del Roma Torreno Fuzza potrebbe risultare importante per accorciare a 10 punti e quindi agganciare la zona play out ovviamente poi sarà importante vincere l'ultima partita la sfida di sabato prossimo contro il Valentia calcio di punizione intanto torniamo in presa diretta calcio di punizione per il Real sulla palla Matteo D'Angeli fischia l'arbitro è uno schema prova Silvetti lo scarica proprio su D'Angeli l'apertura su Dionisi pallone che termina e fallo laterale Reale che resta in zona d'attacco Silvetti D'Angeli Dionisi attenzione fa giù l'arbitro lascia correre voleva un fallo poi ora il fallo è di D'Angeli sul numero 2 della Lazio Massimiliano carissimo tanto il computo dei falli arriva in perfetta parità 3 a 3 così come il risultato che è di 1 a 1 equilibrio in campo sotto ogni aspetto Azzori prova a aprire sulla destra per Cucet non si intendono i due allora può ripartire il Real Silvetti D'Angeli difende il pallone dall'attacco di Chierchia è falloso l'intervento del capitano della Lazio allora calcio di punizione e quarto fallo per la Lazio siamo entrati già nell'ultimo minuto mancano 20 secondi allo scoccare della mezz'ora saranno almeno due minuti di recupero così in questo momento il signor Angelo Ricci della sezione di Viterbo segnala due minuti di recupero Real che rimane in zona d'attacco prova Nicolo Dionisi pallone che termina fuori il Real è vivo il Real ci sta credendo è importante fare risultato è importante anche un pareggio considerando il coefficiente di difficoltà per la Mirafin contro la capolista Roma Torrino ancora Lazio però Azzori avanza palla al piede gli ruba il pallone Baccaro può ripartire il Real Dionisi D'Angeli pressato però ancora D'Angeli Dionisi poi Baccaro Matteo D'Angeli scarica direttamente su Scopigno poi Lorenzo Silvetti difende il pallone dall'attacco di Massimiliano carissimo che poi riesce a rubargli il pallone l'ultimo tocco è di Silvetti calcio di punizione volevano i giocatori della Lazio è solo corner però siamo ormai agli sgoccioli di questo primo tempo 50 secondi ancora e poi arriverà il duplice fischio del signor Ricci Chierchia ancora Lazio con carissimo scarico in mezzo viene chiuso però Valerio Cucè poi c'è il fallo di carissimo su Silvetti quinto fallo di squadra per la Lazio al prossimo ci sarà il tiro libero quindi giocato il bonus per la Lazio la conclusione di Marinelli potrebbe essere questa l'ultima conclusione di questo primo tempo 10 secondi ancora poi si andrà negli spogliatoi fischietto in bocca per il direttore di gara finisce in questo momento il primo tempo Real Rieti 1 Lazio 1 decidono i gol di Alzzori dopo 3 minuti il pareggio di Baccaro al 25esimo per il momento è tutto dal Palamalfatti a risentirci per i secondi 30 minuti di Real Rieti Lazio